Salve a tutti, nuovo unboxing, un tablet Allora, oggi voglio fare un unboxing più diverso del solito Voglio parlare del tablet Hyundai T10 Ma prima voglio, diciamo, spendere due parole Diciamo che ormai comprare uno smartphone o un tablet si divide, diciamo, in due mentalità diverse La prima è le grandi ditte come Apple, Samsung, eccetera, eccetera E con prodotti cinesi Innanzitutto, prendiamo un prodotto che conosciamo tutti, Apple L'Apple non crea nessun prodotto suo Lui l'idea e gli progetta Vengono creati da altre ditte e altre industrie Nonché anche vengono assemblati da altre ditte e altre industrie Perciò, l'Apple crea il prodotto e lo rende perfetto Come si dice, è una linea Secondo, determinati requisiti di hardware che si fa costruire Logicamente non li decidono le industrie, queste ditte Ma li decide l'Apple Ecco perché, anche se noi compriamo un tablet o uno smartphone Apple Le caratteristiche non sono così tanto grosse rispetto ad altri marchi prodotti che costano due volte di meno Ma perché il cellulare, quella linea è stata concepita in una maniera così perfetta Da esprimere tutto il suo potenziale Logicamente con il loro sistema operativo Ci sono prodotti che con un prezzo molto, molto inferiore a quello Vi faccio l'esempio di un Apple Abbiamo delle caratteristiche hardware Molto performanti Ripeto, caratteristiche hardware Logicamente devono essere configurate con un sistema operativo In questo caso, la maggior parte si sa che è Android A differenza con l'iOS 7 che è progettato solo ed esclusivamente per quei tipi di smartphone o tablet Poi, io come mentalità sono per, diciamo, l'antagonista Non prendere una marca, diciamo così, solida e affidabile Come, faccio l'esempio, Samsung o Apple Mettiamo questi due solo in causa adesso Ma preferisco prendere prodotti, diciamo che in questo caso si chiamano cineserie E basta, preferisco più questi Avere più una qualità hardware Che non una, diciamo, un rapporto migliore tra l'hardware Anche se è più scadente e il sistema operativo Preferisco molto di più hardware e il sistema operativo Android e basta Poi, che altro c'è da dire? Una di quelle pecche è che vengono da alcuni prodotti, vengono dalla Cina Devi aspettare un botto per le spedizioni A meno che non paghino della testa come specie di spedizioni L'assistenza, altrettanto, è la stessa Non ne abbiamo in Italia Perciò dobbiamo spedire a carico nostro il nostro oggetto come assistenza Una volta che è arrivato là lo sistemano o ce lo cambiano Riaspettare ancora il tempo di spedizione dalla nazione da dove l'abbiamo comprato Ora, questo tablet di marca Hyundai Il modello è T10 Precisamente l'ho comprato dall'Inghilterra, neanche dalla Cina Perché ultimamente comprando prodotti non solo hardware ma anche di altra fattura proprio Dalla Cina sto rendendo il problema che passa sempre per la Dogana Qualcuno mi scriverà nei commenti, airmail, eccetera, eccetera Comunque io ho sempre pagato la Dogana E alla fine il prezzo era come un prezzo italiano Perciò tanto vale che o vado a un negozio italiano a comprarmelo Oppure me lo faccio spedire dall'Europa dove non c'è la Dogana In questo caso io reputo la Cina e l'America d'Europa Mettendo tre parentesi Cioè la Cina come prodotti di fattura, diciamo, scarsa E prodotti come l'America di fattura buona O come il Giappone ha una fattura buonissima E l'Inghilterra è un'Europa C'è anche la Romania e i paesi, determinati paesi dell'est Che sono anch'essi molto buoni Con un prezzo molto competitivo Poi, di altro c'è da dire Io uso questa, diciamo, uso questa mentalità E preferisco di più modelli in bocca a parola del genere Altra piccola cosa Perché adesso smartphone e tablet costano molto molto pochi Abbiamo delle caratteristiche veramente eccelse Perché i produttori di grosse marche Devono pagare parecce cose Faccio l'esempio Su una rivista che si chiama Compute d'Idea Nel mese di novembre Sempre se non erro Hanno fatto vedere i prezzi Dei pezzi di produzione Del Galaxy S3 e dell'iPhone 4 Costavano uno 145 euro e un altro 155 euro Voi dite una cazzata Allora io ho letto una cazzata Cioè, anzi Hanno scritto sul giornale una cazzata E comunque su Compute d'Idea O Idea Web Comunque l'ho letto su una rivista proprio 145 euro Perché? Voi dite Anzi, io lo dico La qualità C'entra pure Uno Bisogna mettere il suo sistema operativo Due Con Android devi pagare 90 euro solo del market Non noi Logicamente Il fornitore Poi Devi pagare La progettazione L'Idea Tutti quelli che ci stanno di dietro I team La pubblicità La pubblicità Forse il 50% di un prodotto Apple Viene solo pagato di pubblicità Ecco perché è anche così famoso Con la pubblicità La pubblicità è tra quelle micidiali dell'Apple Non ti dicono la caratteristica Che diventano e roba del genere Ti fanno vedere Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi E se ne vanno 800 euro Ecco Detto chiaramente Perché invece questi prodotti Che hanno del hardware così grosso Così diciamo più performante di questi Costano di meno Innanzitutto già cacciamo Tutti I Come si chiamano Le spese di pubblicità In confronto a Ripeto sempre Samsung ed Apple Cioè In confronto Questi prodotti Contro di questi All'incirca risparmiano Del 90% Detto chiaramente Poi Logicamente sono Iper clonati Solo che con pezzi Ancora più buoni In questo caso Cioè L'iPhone Si clona Si Ma se tu vuoi Le stesse caratteristiche Dell'iPhone Lo fanno pure Lo rivendono Che non lo chiamano Anche una forma diversa Ma c'è le stesse identiche caratteristiche Ci sono tante cose di dietro Allegate Perché un prodotto Costa di meno Detto chiaramente E questo è un unboxing Non voglio strecare Tante parole per questo Comunque Io Vi ripeto Sono del filone Che voglio Molto più hardware E meno di quelle caratteristiche Dei fornitori principali Non perché Non mi piacciono Assolutamente Ma Essendo un computerista Io la sono Sempre andato a pensare In questa maniera Cioè I Mac Sono dei computer Buonissimi E ne ho avuti Anche Mac Ma preferisco Di grado lunga L'assemblato O il fatto da me Non c'è il secondo me Comunque Adesso passiamo All'unboxing Allora Innanzitutto Volevo dirvi Che questa è come se fosse Per me Una pre-unboxing Perché Io già l'ho aperto E sistemato il tablet Ma volevo farvi vedere Come mi si è presentato Oltre Nello scatolo Logicamente Ah In caso di furta e smarrimento Perché questo tablet Non è per me Ma è per Per mio padre Ok Il tablet Si è presentato In questa maniera Con La carolina protettiva Il pacco era Di Iper Imballato In una maniera Impressionante Nel sottofondo Abbiamo Altra Carta protettiva Abbiamo Una presa Qua già Incominciato La presa Con la connessione Cioè La corrente Americana Con la presa americana Di cui Mi hanno dato L'adattatore Visto che io ero europeo Che lo comprava Mi hanno dato L'adattatore Per la 220 L'unico problema Che La presa Che mi hanno dato Non è come quelle italiane Ma ci vuole Una presa Un supporto Che si chiama Tedesco Cioè Almeno Quando vado a comprare Una presa Mi serve Un adattatore tedesco E mi danno questo I cui Non ci hanno fatto Non si sono resi conto Che in Italia Ci danno questo Ma Non si può attaccare Perché Perché Gli spinotti Sono troppo Piccoli Perciò Ho dovuto fare In questa maniera Attaccarla A una ciabatta Comunque Lasciando stare L'ultima Unica Pecca E questa Poi Dentro la busta Cosa ho trovato Ho trovato Cuffie Con Con il Con la presa Jack Da 3,5 Non è microfono E cazzo Poi Abbiamo trovato Cioè Abbiamo Ho trovato Il cavo Da mini HD E Ma A M M H D Mi Chiedo Scusa A H D Mi Ovviamente Un Questo è Sempre come Omaggio Mi hanno dato Anche La Come si chiama Questo invece Un omaggio A Il cavo E un omaggio Questo qui E un omaggio Che è il caricabatterie Per Per auto Mi hanno dato Anche in omaggio L'adattatore Dal suo supporto Al Us USB Poi Mi hanno dato Anche Ecco qua Il cavo Dal suo supporto A USB Per la connessione Direttamente al computer Mi hanno dato Anche in omaggio Una card Che qui non c'è Perché è già inserita Nel Nel tablet Una card TF Da 16 giga E poi Basta C'è Il manuale Qualche cosa C'è scritto Hyundai Ah Modello Ripeto Hyundai T10 Con qualche cosa Scritto In 5 Channel Ok Ora passiamo Al Tablet Io lo ripeto L'avevo già Per te sistemato Perché Dovevo sistemarlo Per papà In una maniera Molto particolare Pure In gigantiire Di brutto Le scritte E Ecco qua Sto schilando Nel frattempo In gigantiire Di brutto Le scritte Tutto il resto Perché Papà Non ci vedo Un granché Abbiamo Un'altra Volina Protettiva Qua Abbiamo I due I sui due Speaker Una Fotocamera Da 5 megapixel Dietro E con risoluzione HD E qui Abbiamo Un'altra Fotocamera Da 0,3 Megapixel Ora Nel frattempo Io lo accendo Ah guardate Nel riflesso Sto vedendo Pure Nel frattempo Yeah Ok Si è acceso Dotto Ah si si Perché stavo guardando La fotocamera Nel frattempo Che si accende Facciamo la velina Ecco qua Nel frattempo Che si accende Guardiamo anche gli spinotti Abbiamo Il tasto chiudi I due tasti del volume Dall'altra parte abbiamo Il mini HDMI Il suo supporto Di trasferimento dati Abbiamo Il microfono Qui E qui c'è Ecco Come state vedendo I due compartimenti Degli slotini Dove mettere La sim Perché questo è anche Il collegamento Non solo wifi Ma anche 3G E anche l'inserimento Della Della card Qui abbiamo La connessione Per l'alimentazione Per caricare la batteria E qui abbiamo Il jack Per collegare le cuffie Ok Abbiamo aperto Il tablet Come state vedendo Come si chiama Orizzontale Verticale Orientabile Ok Mercoledì 3 luglio Come state vedendo Non so quanto viene pubblicata Perché devo rispettare Le uscite degli altri video Si può fare uno zoom No Chiedo troppo Da questa fotocamera Va bene Come state vedendo Eeeh Scorre benissimo Scorre Eeeh Non mi domandate Tutte queste app Cosa sono E perché E' così grande Perché tutte le icone Sono grandi Perché lo ripeto Io ho installato Questo applicativo Che si chiama Screen dpi Una cosa simile Monitor E l'ho messo A 210 dpi Perché papà Non ci vede un gran che Se lo mettevo più grande Per papà Diciamo papà Era più felice Ma si sminchiava Completamente Tutto il tablet Ora Poi Cosa c'è da dire Di questo tablet Lo possiamo vedere Pure qua Il modello E la marca Abbiamo poi Il suo microprocessore Che è la bellezza Di un quad core A1 GHz e 4 Pari a un Cortex A9 Quad core Con una GPU Mali 400 MP4 Cioè Abbiamo Un ottimo tablet La connessione Come state vedendo qui Dall'icona Abbiamo La 3G E abbiamo La Wi-Fi Anche Poi E 10 pollici Punto 1 Logicamente Monitor IPS Perciò Con una Risoluzione A 1280 Per 800 Poi Si può anche Overclockare La CPU Come c'è scritto qui Logicamente In cinese O giapponese No Cinese Scrivo scusa Fino a 1 GHz e 6 Poi abbiamo RAM Purtroppo Mi dispiace Per La qualità del video Ma questo Passi il governo Abbiamo Ddr3 2GB Di RAM Poi Abbiamo Il Lumen Penso che sia 30 500 Watt Android 4.2 Sembra Sempre diverso Dall'Android 4.2 Perché Io Dal classico Android Perché Io ho messo Il Come state vedendo La passicona Eccolo qua Il Nova Launcher Perché È più Personalizzabile E più Confortevole Poi Che altro C'è da dire Il materiale di costruzione È alluminio Perciò È anche questo Bene Il display Ha Una Retrouminazione A LED Con Un angolo Visibile Di 100 Scusa Di 180 Gradi Perciò Ecco qui L'unica Pecca È questa Come state vedendo Il riflesso Non solo mio Ma Io l'ho provato Già al mare Perché Per tre giorni Cioè Io l'ho fatto Dopo tre giorni Questo unboxing L'ho portato Al mare Con me Devo dire una cosa Ecco qui Sto aumentando La luminosità Dello schermo Devo dire una cosa Purtroppo Non è uno di quegli schermi Che al sole Vedi proprio chiaramente Vabbè Il sole del mare Poi Siamo a luglio Pizia Pizia forte Però Comunque Non è stato proprio Il massimo Poi Il supporto Come ho detto prima TF card Espandibile Fino a una memoria Di 32 Giga E frattempo che vi parlo Io gioco con questo Cosa qua Vediamo cosa c'è da fare Fino a 32 giga Poi Che altro abbiamo Abbiamo il sensore Di gravità Abbiamo anche Il GPS Ah si Vuole la sincronizzazione Online Per vedere i modelli 3D Ma vabbati Abbiamo Questo qua Si nota Perché Serve anche Per lavorare Questo tablet Perciò Almeno Per visionare Il file Di Archicad E AutoCAD Molto buono Cioè Ci ho installato apposta I suoi componenti Poi Il Poi che cosa abbiamo Il E anche Bluetooth E GPS Una piccola caratteristica Che ho visto Sul Suo GPS Lasciando stare Che ci sono Pure altre applicazioni Il GPS Suo E' Molto Molto Lento Ad avviarsi E a prendere Il segnale Lo deve ammettere Poi Poi la visualizzazione Poi la visualizzazione Dei video Li puoi vedere Fino a 1080p Con i formati Diciamo ormai Li possiamo dire Tutti i formati Almeno i più importanti Avimov MP4 RMVB Poi FLV MVK Abbiamo anche File Vabbè Audio Li legge E ritorna a posto Ecco MP3 E poi Abbiamo Abbiamo La batteria Lo deve ammettere Mi ha sorpreso Dura Fino a 5 ore Di operatività Non al massimo Della luce O se abbiamo Diciamo Tutti questi Aggeggi Attivi Logicamente Dura di meno E dipende Da quello Che Diciamo Dobbiamo Fare Fa anche Da come state vedendo Fa anche Da telefono Ed è un Quad band Per Zunda Poi Le dimensioni Sono di 263 mm Per Per Questo qui Per 183 mm Per 10,1 mm Cioè Veramente Veramente Sottile Con un peso Solo di 664 grammi Ora vi voglio Vi voglio far vedere Un attimo Come si vedono Almeno I video Ritorno a posto Ecco Allora Andiamo Sulla galleria Eccola qui Abbiamo una fotografia Che ho fatto pure La prova Della fotografia Abbiamo un video Di simpatiche Ragazzine Cinesi Che cantano Vai Con il player Il player Io ho messo L'MX Se non erro Ri e segui Le casse Si sentono Veramente alte Le Algeron Ecco qua L'audio E' Veramente Forte Ok Premiamo Pause E vi faccio Vedere Con altri Video Che ho Preso Dalla Rete Per farvi Vedere La risoluzione E quanto Diciamo Sia fluido Il nostro video Come avete Ho inserito Il suo adattatore Col USB Perciò Voi potete Collegarci Tranquillamente Apparecchi esterni Logicamente Non stampanti O roba del genere Ma Hard disk Penne USB E anche Delle penne esterne La 3G Ecco qua Adesso Andiamo a vedere I video Che ho selezionato Per voi Ecco qua Come state vedendo Dalla sua Diciamo Applicazione Va direttamente Dalla parte Della pen USB Ora Questo è In 1080p Battlefield 4 Tra i miei giochi preferiti Tra quelli che io Avrò Immediatamente Eccolo qua Guardiamo com'è La qualità In 1080p Passiamo avanti Con il video Ecco qua Ve lo dico io Visto che È normale Che non si può capire In questa maniera Poi vedete Pure il riflesso Mio La La fluidità È eccelsa Devo dire È eccelsa Veramente buono Il comparto audio Perfetto Poi andiamo In un altro video Che è sempre Battlefield 4 A720 Con risoluzione Di 720p Ecco qua Perciò è nell'HD Non nel full HD È perfetto Devo dire Che è perfetto Non ha nessun lag Non refresca L'immagine Non si interrompe Adesso proviamo Il formato Più pesante Che è il 2K Voluto provare io L'HD 2K E ha proprio Con mio Non so come dire Sorpresa Legge Tranquillamente Risoluzioni Fino a 2K 2K Che Chi non lo sa È una risoluzione Molto più grossa Rispetto al full HD Rispetto al 1920x1080 La risoluzione Perfetta La fluidità Anche L'audio Anche Non ha problemi Di niente Questo Mi ha sorpreso In ogni In ogni cosa Mi ha sorpreso Questo Questo tablet Ecco qua Adesso Lo caccio In gameplay Ecco qua Rimozione Imprevista Della scheda SD È normalissimo Non faccio Io prendi a nulla Oppure Caccio il dispositivo O lo disabilito Io lo prendo E stacco Amen E qualcuno mi scriverà Non va bene Si rompe Il mio amico Il mio cugino Si è bruciato Il tablet così Che peccato Comunque Finito Questa qui È l'unboxing Di questo Tablet Che è Sorprendente In ogni cosa In ogni punto In ogni dove Grazie ancora Per il tempo Che mi avete dedicato Ragazzi Ti saluto per i fichi Oh Oh ragazzi Perdonatemi Mi sono dimenticato Una cosa In omaggio Mi hanno dato Pure questo Ah Tra parentesi Non ho detto il prezzo Il prezzo è di 280 euro Compreso spese No Più 15 euro Di spese e spedizioni Se non erro Nessuno me l'ha dato Gratis O per fargli pubblicità L'ho comprato Da ebay E Come vi faccio a vedere Il porta tablet Con tastiera USB Fighissimo Stupendo Arrivederci Stupendo Stupendo